ciao a tutti qualcini come state? spero bene 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 stasera vi faccio un po' di coccolini iniziamo con un bel massaggino alla testa intanto però prima volevo ringraziare tutti 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 i miei cuoricini e tutti tutti i nuovi cuoricini se state vedendo questo video e non siete iscritti aiutatemi a crescere ed iscrivetevi al canale adesso mettetevi le cuffiette trovate un posto bello 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 comodo e rilassatevi assieme a me ciao 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 a tutti rilassati iniziamo rilassati 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 rilass Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi non avendo le unghie, il tapping è quello che è. Comunque qui dentro c'erano dei cioccolatini e volevo provare a fare un suono. Vediamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Guardate quanti fiorillini belli belli. Grazie a tutti. 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 Adesso facciamo un piccolo conto alla rovescia per darvi la buonanotte. Spero vi siate rilassati. Allora... Allora... Dieci... Nove... Otto... Sette... Sei... Sei... Cinque... Quattro... Tre... due uno buonanotte va dai soni buonanotte cuoricini